Dobbiamo pensare a una grande città in una zona agricola. E quindi nella grande città la gente veniva dalle campagne per vendere prodotti o comprare prodotti. Quindi era un punto di riferimento importante. Una città però chiusa da delle mura che servivano come difesa della città. Sarà Napoleone con la rivoluzione a distruggere quelle mura. Ma all'interno di quelle mura la gente trova sicurezza, trova lo scambio commerciale, trova anche l'aiuto religioso, trova sacerdoti per le confessioni e trova anche l'ospedale. Infatti il papà si inserisce bene nell'ospedale diventando primario dell'ospedale. E' quindi una società contadina dove solo le persone che stavano meglio potevano accedere all'istruzione e andare avanti. Lì i gesuiti avevano avuto anche un loro collegio che poi con la soppressione della compagnia è stato chiuso. Quindi l'Anteri ha la possibilità anche a Cuni di trovare buoni maestri, gente preparata, anche ad avere un buon scambio culturale. Quindi è una città che viene incontro alle esigenze di una società totalmente diversa dalla nostra. Non esistono le industrie, non esistono queste attività. E la gente era abituata a vivere molto vicina, le strade sono molto piccole e la gente anche usa molto i portici che li difende dalla pioggia, dalle intemperie. Non c'era bisogno di ombrelli come si usa oggi. E quindi è una città dove la gente si conosce e anche nella città trovano un riparo gli ebrei che hanno un piccolo ghetto proprio vicino a dove viveva la famiglia Anteri. Grazie. Grazie a tutti.